E' terminato con l'immancabile taglio della torta il lungo weekend di festeggiamenti per l'ottavo compleanno del Grifone Shopping Center. Dopo il Black Friday con il modello svedese Daniel Nilsson e l'arte del body painting che ha animato la giornata di sabato, i tre giorni di festa si sono conclusi ieri con la maxi torta alla presenza della fashion blogger Francesca Lukasik. Mi sto divertendo con loro, mi sto divertendo con tutti voi a fare shopping al Grifone e ovviamente a festeggiare gli otto anni, quindi tanti auguri al buon compleanno.